ciao a tutti i ragazzi sono mkh palencia e oggi sono in compagnia di iraq stella e oggi siamo qui nel tentativo di guallare i commentari sulle campagna operativa di battlefield online quindi quindi questa qua è la prima operazione speciale quella primissima ma fatta in livello facile per colpa di iraq sicuramente scusa ma sono troppo scarpe no ma il mkk abbiamo deciso di avere questo progetto cioè di fare tutte le emissioni cooperative di batte filtra online magari con membri diversi tipo virtuale style o magari parte quando si lo comprerà e tutto questo in live e quindi boh per il periodo ora c'è posti torno a voi anche il video salato alberto di mi piace foto sto paura no senso a dare a me sotto con spero alla che mira o cazzo la scatata per la vera o quella di questa po' orvato e per morire guarda che stavo intorno ma mi stia ci sono ma io ci sono qua per morire troppo io sono paura che si cerca di un'arma a tipo questo ns nel giro se sei anna che i morirò stanno distruggendo la roba città costituzione ecco il centro il nostro foto ma c'è la tenda un'altra parola e' un e' la parma troppo rincuolo e' il mio consiglio cosa fa per comprare il saleggio le reti direzionale ho visto la compasso nulla gioco cacchio stanno passando c'è un po' di granata granata una parte c'è un po' di c'è un gioco spettacolo a arco pari 3 2 1 tutti gli attivi fai ok allora nemici ma questi anni hanno capito che siamo tutti stiamo facendo sponchile attio fai riuscire a trattare percato troppo poi arrivano tutti correndo a testa e' fatemi di intelligenza artificiale buon senso di parola alberga alberga la facile non ha fatto parola guarda tra c'è poi la stessa in paese per me domanda ma io ho scasso dal profondo come vi faccio aspetta a un solo da me a te la mia nato e la s pericolo pericolo no no i ragazzi dei libri sono sopra la volta si si è liberato apre con la cittadina a più corti cosa è questa mafia cazzo cazzo prima tu preparati colgiano perché mai darstina raccogba mato aware progressivamente idea alla opera a la a lars chrosي salari auto anima rasc General preparata e' proprio giusto no no ai a città città caramara irox e' morto un pomeriggio corpore un corpore la foto la sua sorella la sua sorella ma sono un pochino d'affarato distrucido bocca ok all'altra parte di qua l'indicato 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 l'opera c'è da farlo l'opera posto male i nostri amici i nostri campani non ci danno la mano e non so che passano portano comparsa sono delle comparsa ma ci vuoi andare a trovare ma io sto un il canale no no l'intero quando ci sarò gli aspetto io ho fatto i mi farei cazzini aiutero o aiutare la macchina è una cosa per porto carina porto anche il colore molto particolare parco per ora l'indicato se neanche il carico per ecco 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 l'esterno c'è un senso il senso l'esterno 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 e' spettacolare la defesa se è suonica effetti tutto bello l'attacco l'attacco casino ma a allo ma le spese delle macchine fanno un po' cagare, sono un po' miseria erano sono meglio quello di spazio in fila del petto e compagnia spazio ma però la grafica è molto meglio questo eh beh, è un anno e mezzo è uscito a battere il compagno eh, da che c'entra? da che c'entra? ho un certo green c'entra, 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 c'entra da un'isola, c'entra, con scritto linea difensiva, perché devi capire un contatto non mi piace quanto gather faccio decisissimo 4.0 è una scelta di vita o mi stai suggerendo la macchina e trappertutto l'affatto ecco la marca perchè non mi fai fare una di queste macchine? corpore unico superiore fratello la scala non ti piaccia no che sono inizioni e la sensazione omicidale oltre a star raccogliere a tecchio non c'è un'abertura. la casa a grazie a scuola per ammazzare troppo facilmente a me corsa così ora c'è un po' un posto in guida come fare a capo a capo a capo a capo per la d'acqua il dac dopo aver scopo acquisto perché trovate scopare acquisto apari mi sono infiniti c'erano capito che di quale si passa il progetto attacca non come caso non la mia coppia sta saltando ahahah sul tetto e la stiavolo sul tetto 8 inoltre questo risultato a barba buon sei casano i nemici ok ai fai ai campi c'era poi che tu lo fa con cerchio con la tratta ai ai la foto la re ok ok la cosa ho avuto di aria rato e' cosa a e' guarda parola parola no 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 posti morto ok direi che nemici sono finiti c'è se non voglio ancora morirà carabin arreda d'arrivo aprile d'arrivo c'è scritto carabin attraverso via 4 arredo non c'è nato aiuto il volo è tutto il volo legge acqua molti o molti amore la calma è stato amato accolto per me la sopra c'è il d c'è in d capisciano per oggi ma io sono stacca aiutare o fare a cuore ma la faccia. la stessa ma proprio la prima missione cooperativa è finita la record record 5.417 a 50 mi piace arriverà la seconda missione commentata sempre da noi un saluto da MKK Legend MKK Irax, bella